Siamo a Roma, parco della musica, fiera del fare, del produrre, dello scoprire, dell'inventare, fiera della tecnologia e anche della creatività. Siamo qui in una zona meravigliosa di Roma, al Flaminio e anche in Italia questa fiera che ha un eco mondiale sta appunto, anche in Italia, a Roma sta prendendo piede, si sta svolgendo il Makefair 2014. E un colpo d'occhio alla regia, ci sentiamo dopo con qualche dettaglio. Grazie.